Una casa editrice nostra che ha voluto premiare una vera e propria opera d'arte non è un libro, si definisce un quaderno, parliamo del quaderno di Pagos, dove racconta un po' quelle che sono le storie in vernacolo crotonese. Che cosa vi ha spinto ad accettare questa sfida? Allora noi abbiamo preso subito in considerazione il libro di Pagos, non soltanto per il successo di mercato che c'è stato, perché siamo alla seconda ristampa, ma anche perché il libro di Pagos entra nella linea della nostra casa editrice. Noi da tempo ormai pubblichiamo libri basati sul valore storico scientifico e il nostro stesso fondatore Giuseppe Dettoris era un amante della storia. Studiare il passato significa poter comprendere meglio il nostro presente. George Orwell diceva chi controlla il passato controlla il presente e chi controlla il presente controlla il futuro. In questo libro ci sono delle tematiche significative e una memoria, le tradizioni popolari della nostra crotone. Ci sono degli insegnamenti anche per le nuove generazioni. Possiamo andare a vedere ad esempio lo spirito di sacrificio di alcune mamme povere, cosa che adesso i ragazzi comprendono forse di meno. Possiamo vedere anche magari i luoghi. Ecco, la crotone vecchia, il centro storico che è la culla di una città. L'autore entra in questo centro storico e vede che ci sono dei palazzi abbandonati e dei palazzi aggiustati, ma aggiustati male. E questo ci fa pensare, perché quando noi, noi siamo anche di ispirazione cattolica come casa editrice, quando noi aggiustiamo noi umani le cose, non con la vicinanza al divino, le cose ci vengono male. Il creatore le crea un po' meglio. C'era Tolkien che diceva, infatti sembra un concetto banale, ma banale non è. Noi creiamo perché siamo stati creati. E allora aggiustare le cose, lui vede questi palazzi aggiustati male, dice ma perché, che fine hanno fatto, no? Ecco, aggiustiamo anche le cose in un modo migliore. Ci sono tanti bei significati in questo libro. Ricordare il nostro passato ci fa anche capire che cosa dobbiamo migliorare della nostra popolazione, che cosa dobbiamo anche rimembrare per farlo rimanere. E questo ci ha spinto a tenere in considerazione quest'autore. C'è stato anche un lavoro di etidic molto importante. E di questo ringrazio la nostra collaboratrice Eleonora Costa, perché la casa editrice deve essere così. Sempre il nostro fondatore diceva che la casa editrice non è una tipografia. Quindi l'editore deve correggere, deve migliorare l'autore. Il rapporto che c'è tra un autore e l'editore è fondamentale. Io devo anche insegnarli a essere migliori, diciamo anche a migliorare. Quindi devo migliorare il libro e questo è stato fatto, grazie anche ai nostri collaboratori. E vorrei ringraziare anche il signor Elio Cortese, che ha parlato molto bene del libro. Ripeto, il libro ha molto successo, ha venduto e noi ne siamo contenti. Perché è un libro facile, facile anche per i bambini. Noi l'abbiamo, alcuni pezzi li abbiamo fatti anche recitare da Pagos e dall'attore Francesco Pupa al teatro Pollo. E i primi a comprendere questo libro sono stati proprio i bambini. Quindi vuol dire che è un libro proprio semplice. Perché i bambini si sono divertiti. Quindi io consiglio di leggerlo perché è divertente anche. Non è solo commovente, ma è divertente. È divertente ma allo stesso tempo fa rivivere quella che è la vera tradizione di un tempo. Ci sono alcuni passaggi dove si parla del tradizionale ragù crotonese, quindi un pezzo di pane con sugo, dove si parla della nostra colonna di capocolonna, ma l'artista riesce bene a spiegare quello che è il nostro mare. Quindi quello che è un vissuto, che forse oggi un po' ci manca. Beh, certamente ci manca, però lui lo fa vedere con occhi speciali, anche con i disegni che ha introdotto. Quando parla ad esempio della cucina, no? Quella cucina popolare, le famose braciole, oppure i patati e i pipi. Ecco, sono delle parti culinarie che rientrano oggi anche nei ristoranti. Cioè cibo popolare, cibo dei poveri. Però noi lo possiamo ritrovare nelle trattorie, nei ristoranti di oggi. A me è capitato, dicevo all'autore stesso venendo qui, che di essere stata in un ristorante in Toscana, molto tradizionale, artigianale, e mi hanno presentato la famosa pappa al pomodoro, che era un cibo dei poveri. Quindi ritorna, ritorna e oggi viene anche apprezzato. Il succo a ragù. Una volta, il domenica, e specialmente alle feste ricordate, pur senza credenza, cioè a credito, il succo a ragù sapeva di fare. Era proprio un rito. Il primo mattino, una moglie ma, piavara a Castelloliccia, per cucinare su Carragò, e ci metteva a ciupuggia su fritta, che oggi, una bocatezza di salsi, oppure che era accattata a sposa, morse di carne, accia, e per cedare ciò, sapore a capa, e ripete, da Caglina. Tanto per farla breve, io, dico io, per significare il personaggio dell'epoca, melezava, era l'odore forte di questo succo a ragù, che mi rispeggiava. Melezava, diventa cucina, e mi piava rupe il neggio, un rasteggio, il rasoio, la mette, e un sapone, e la barba, e mentre mi faceva la barba, il suo carragù si cucinava. Prima di iniziare, mi faceva una bella pettinata, un po' che d'oggi, hai capito, era la brillantina, di poveretto, e mi tagliava un bello tasseggio di pano, lo spaccava, e da me ci metteva il suo carragù. Mi neva sopra la porta, e la casa, e mi mangiava. L'oggi mi colava sui miei mani, e me lo leccava insieme a il tasseggio, e il sapore mi pareva ancora più buono, intanto arrivavo a compare, o compare, mi cuci, e mi salutava. Buongiorno compa, buongiorno, pure a voi, volete favorire? No, grazie compa, mangiate ancora buona salute, uscinate a ragazzi, non mi noto compa, quando mi finisce sto mozzini, pane e sugo. pane, sugo, con il ragù. Un tempo era la colazione di tutti, oggi c'è una colazione un po' più, probabilmente, un po' più raffinita, ma quella era forse la colazione dei poveri, e anche se si era povero, comunque si doveva mangiare per forza la carne, la domenica, come dice lei in questo testo, il ragù, anche senza soldi, si riusciva in qualche modo a prendere, ed entrare nella casa dei crotonesi. Ma non sempre, per la gente povera, io non sono nato ricco, quindi i miei genitori, il mio padre era uno che lavorava nella Montecatini, nella nostra mente, di tutti quelli del popolo, la carne si ammangiavano solo i ricchi, uscocca a ragù era una occasione rara, però nelle feste, ricordate come a mezzo agosto, Uga Dutz, si comprava vivo, e si spennava, e usapur era tutta una cosa, adesso non li chiamiamo più Uga Dutz, Pol, e hanno un sapore che è meglio non dirlo. Lei ha deciso di scrivere questo, perché lei lo definisce le stesse un quaderno, non un libro, all'interno ci sono dei disegni, e sempre nello stesso quaderno, quindi in questo libro, dal titolo Venne Catecunto, praticamente lei ha fatto dei disegni definendosi un alunno, quindi i disegni sono dell'alunno Pagos. Esatto, e di fatto, Venne Catecunto, e sono venuto per contare, e vi ringrazio sempre, a RT, che mi ospita, ben volentieri, con grande, con onore e piacere, sono sempre qui, a disposizione. niente, il mangiare della povera gente, come dicevo prima, era anche un pippo per le mamme, un pippo rucente, un muzzucona canupane, è nato, caro pippo, e quello era il pranzo della giornata, per far mangiare di più i figli, e perché il quaderno, perché? Io ce l'ho varato per due anni, e ho pensato che non doveva essere il solito libro, con la solita impaginazione, siccome parlo della mia infanzia, quindi, l'ho scritto quando avevo dieci anni, alla quinta elementare, quindi è come una forma di diario, che è anche un libro, e la cosa che mi sta facendo davvero commuovere, sono i giovani, la signora, collaboratrice della Detoris, Eleonora Costa, che mi ha fatto una presentazione bellissima, come il professore Elio Cortese, che ringrazio sempre, io l'ho definita, gli ho fatto la dedica sul libro, una giovane, antica signora, che le piacciono tutte queste cose, e la figlia di amici miei, si è commossa, giovane, avrà una trentina d'anni, e quello che sto riscontrando, come diceva la dottoressa Maria Grazia, i giovani lo leggono con una facilità straordinaria, e lo amano, addirittura lo amano, e grazie a Dio stiamo vendendo, siamo alla seconda riedizione. secondo lei, i giovani lo amano, perché forse queste cose oggi un po' mancano, oggi si mangia il ragù, in qualsiasi momento non si aspetta l'occasione, come si mangiano i peperoni e patate, e come si va al mare, un tempo andare al mare era una festa di famiglia, le grandi abbuffate sulla spiaggia, quindi probabilmente per quanto siano stati, per quanto siano stati criticati quei tempi, forse oggi ai giovani mancano. Innanzitutto il ragù non è più quello di prima perché manca la capa e i peperoni da caglino, per prima cosa. Poi, ce lo scusa, i giovani non conoscono la culinaria di una volta, è vero che i peperoni e patate si fanno, che ora sono diventate dei piatti prelibati, ma c'era la friuta, c'è la pasta china, non si fa più, si fa la lasagna, che per noi sì, è buono, però la pasta china è diversa. C'era la prova, c'è il sassizio, c'è l'uovo cogliuto e c'è il pulpetto e si cucinava in una tortiera sul coperchio si metteva la braccia e quando ti mangiava ti ricriava. Cioè questa è la storia che è vero che io ricostruisco anche su un oggetto o su un piatto una storia vera. Oggi purtroppo è una storia molto falsificata. Diciamo che lei tira fuori attraverso questo libro quelli che sono i ricordi del suo cuore e quindi ne fa una sorta di autobiografia per raccontare effettivamente a quello che è il mondo d'oggi, quello che è stato il mondo di un tempo. Sì, certo, però io ritengo che non è solo il mio mondo. Prima le tradizioni si tramandavano e quindi era il mondo sempre delle nuove generazioni. Purtroppo io ho riscontrato che alle nuove generazioni non si tramandano più. Perché? E non faccio una critica tanto per farla, ma è una osservazione. Da quando sono nati il supermercato non c'è più la bottegheggia dove una comprava la salsa o a propria c'è la massa. Allora le tradizioni non si stanno trasferendo più però quando hai giovane tu gli presenti un piatto di pepe e patate o di braciole si affrugano, se li mangiano. Nel 1995 quando ebbe l'occasione e la fortuna di incontrare Sgarbi qui a Crotone che vende nel mio studio ha comprato un quadro grande che rappresenta uno degli stabilimenti dell'Apertusa lo strappamento. Mentre giravamo per il centro storico c'era una signora che stava a Frienni in braciola se ne ha mangiato una salatera. Un anno dopo io mi trovavo a Roma ospite da zia di mia moglie c'era una trasmissione in prima serata condotta da Pippo Franco. La Calabria era rappresentata da Vittorio Carbi. Io posso capire che un grande uomo di cultura descrive i viaggi che lui fa ma non c'era una calabrese che parlava di covateggio i maccarroni e chi li fa più i maccarroni con un ferro e l'ombrello con un ferro e il sugo che si infilava nelle fessure di un maccarrono crupo pareggio che sapore o covateggio quella ricotta aggrattata questa cioè questa è anche cultura al turista che cosa gli facciamo mangiare quando viene qui e quindi Sgarbi ha voluto assaggiare a braccio la fricuta a sardeggio a provola a soppressate i pepe e patate lui va a scavare in queste cose che è la vera cultura e l'uomo di cultura è questo non è quello che sta nei palazzi o fa finta che scrive bisogna viverle le cose e viverle vuol dire trasferire sia le tradizioni la passione e l'anima e il cuore della propria terra Pietro Agostinelli in Arte Pagus presenterà qui negli studi di Retti Calabria questo libro e dovrà dire in due parole perché bisogna comprarlo e bisogna comprarlo perché l'abbiamo stampato di parte qui c'è una esclamazione che è anche una domanda che ho scritto che fa parte del nostro lessico del dialetto è mo dice e mo come fare e mo sono fatti di due e concludo voglio l'ha saputo capare se hai scrivuto un libro e dice no e mo e mo non la mccatare ecco questo è l'invito che vi faccio e ringrazio tutti quelli che l'hanno già comprato e quelli che lo dovranno comprare grazie e grazie ancora a voi grazie Grazie a tutti.